Carissimi amici, ben ritrovati sempre qui su Videoradio Channel. Un saluto da Gianluca Martino, dalla redazione milanese, presso gli studi di The Music Lab. Oggi faremo il test di un leggio. Apparentemente si tratta di una cosa banale. Il leggio è un attrezzo che appartiene alla quotidianità di ogni musicista. Uno vale l'altro. Perché perdere tempo a farne una recensione? No, amici, non è così. Quello che vedremo oggi è un oggetto molto particolare e decisamente innovativo. Nello specifico voglio parlarvi del PX-1. No, prodotto da Bespeco, azienda italiana leader nel settore delle attrezzature musicali da molti, molti, molti anni e conosciuta in tutto il mondo. Vediamo le caratteristiche che lo rendono vincente. Si tratta di un leggio pieghevole, multifunzionale, di grande robustezza e stabilità e dà il design moderno e accattivante. È composto da un'asta estensibile con base a treppiede ed ha una tavola estraibile e pieghevole. Cosa molto interessante in termini di comodità di trasporto. Quest'ultima è realizzata in ABS flessibile, antiurto e resistente a colpi e cadute accidentali. Molto interessante è lo snodo che regola l'inclinazione della tavola. Si tratta del sistema che Bespeco chiama Crocodile per via delle ruote dentate, simili ai denti di un alligatore, che garantiscono un serraggio ed una tenuta ottimali ad ogni inclinazione. Grazie alla sua robustezza e stabilità, il PX1 può essere utilizzato anche come piano di appoggio per computer, tablet e accessori vari. Una volta scelta l'altezza desiderata, per una maggiore sicurezza, possiamo inserire il pin metallico, in dotazione, negli appositi fori lungo il tubo. Il carico massimo applicabile sulla tavola in piano è di 8 kg. Sulla tavola troviamo due antennine snodate che garantiscono la stabilità di libri e spartiti, anche in caso di vento o elementi di disturbo. Da notare una caratteristica veramente unica ed utilissima. Il PX1 ha 4 stopper orientabili in plastica antigraffio, per sorreggere e bloccare eventuali dispositivi mobili, tablet, smartphone, computer, eccetera, eccetera. Inoltre ha in dotazione un utilissimo vano portaoggetti per custodire plettri, matite, gomme e quant'altro. E due ganci a scomparsa, utili per riporre cuffie, cinghe, archetti, eccetera, eccetera. Il musicista che necessita di una tavola più ampia per spartiti di grandi dimensioni, può usufruire delle estensioni aggiuntive con aggancio a slitta chiamate PX1A, opzionali non incluse nella confezione. Per finire, il PX1A è dotato di una comoda borsa in nylon con scomparti interni per un trasporto ottimale. Che altro dire, Bespeco ha rivisitato un oggetto tradizionale, rendendolo moderno, funzionale e, anche l'occhio vuole la sua parte, accattivante esteticamente. Anche per oggi è tutto. Un saluto da Gianluca Martino, qua dagli studi di The Music Lab, la redazione milanese di Video Radio Channel. Grazie a tutti.